... Marche alla bit con le lodi della ministra Santanchè, siete un modello per il turismo. Vincenti le scelte di Acquarogli e Bruschini, visti dati record, successo per il cooking show con gli chef stellati. Omicidio Panzieri, il giorno della verità, lunedì in aula arriva il killer Alessandrini. Giallo a San Ginesio, si grida all'omicidio ma le indagini portano verso il gesto volontario. Per Carnevale riapre Corso Trento e Trieste, potranno circolare solo i pedoni. Ascoli si prepara alla due giorni di festa in diretta su Vera TV l'11 e il 13 febbraio a partire dalle 16. Per il picchio stop pesante al Del Duca contro il Sud Tirol, salvezza diretta a 5 punti. La Samb vince e resta in vetta insieme al Campobasso, Atletico, K.O. a Monterotondo. E ben ritrovati insieme con il nostro Tg Marche in apertura alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. Allo stand delle Marche è arrivata anche la ministra Santanchè, che ha lodato le scelte portate avanti dal governatore Acquarogli, e le scelte che hanno permesso di incrementare notevolmente i flussi turistici. Vera TV ha strappato una promessa alla ministra, verrò a degustare le vostre eccellenze culinarie. Sentiamo. C'è un pezzo di tricolore che spunta dalla giacca del governatore delle Marche, Francesco Acquarogli. È quello donato dalla ministra al turismo, Daniela Santanchè, dopo il taglio del nastro, che ha dato il via all'edizione 2024 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, a Milano. L'abbiamo vista ritagliare il tricolore e infilarla nel taschino del presidente delle Marche. Sarà un gesto di buon auspicio? Assolutamente, anche perché il governatore sta facendo molto insieme alla sua squadra per il turismo e le Marche sta diventando veramente anche un modello per le offerte turistiche. E vediamo che ha sempre più visitatori. L'anno scorso ci siamo viste proprio qui alla BIT e lei ci ha detto che le Marche hanno un tesoro prezioso tra le mani, dobbiamo saperlo valorizzare. Trascorso un anno a che punto siamo? Che infatti è stato fatto un grande lavoro per la valorizzazione. Ci sono tante offerte turistiche che le Marche deve continuare a fare per diventare sempre più sexy nei confronti dei turisti. Verranno le Marche? Certo! A degustare le nostre prelibatezze stellate? Assolutamente, che ne avete tante! Il modello Marche torna all'appuntamento con la più grande fiera del turismo, forte dei numeri registrati lo scorso anno, dei quali il Presidente Acquaroli si è detto più che soddisfatto. I numeri del 2023 sono assolutamente in linea con i numeri record del 2022. c'è un leggero incremento, all'interno però del dato complessivo bisogna notare un calo del turismo interno italiano e un aumento importante del turismo estero legato soprattutto alle mete dove c'è il collegamento aereo. A questo va aggiunta una riflessione, la riflessione è quella che come tutti noi sappiamo l'inizio della stagione 2023 in maniera particolare nei mesi di maggio è stato fortemente condizionato da una crisi di calamità naturale legato agli eventi che hanno toccato in particolare in Emilia Romagna ma anche le Marche e quel dato ha risentito sicuramente nel mese di maggio e di giugno condizionando un po' l'inizio della stagione balneare. Quindi se consideriamo l'aggregato complessivo che comunque vede un segno più rispetto a una stagione record devo dire che il 2023 è stato veramente una conferma sorprendente. E parlava di buona cucina, è una gastronomia delle Marche, la nostra Jessica Balestra insieme alla ministra Sant'Anchè e proprio i piatti migliori della cucina marchigiana sono stati protagonisti alla BIT grazie a degli chef stellati che hanno animato lo stand Marche all'ora di pranzo. Vediamo com'è andata. Il firmamento stellato illumina il cielo sopra Milano. Alla Borsa Internazionale del Turismo, nell'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura gli chef stellati marchigiani omaggiano Gioacchino Rossini con un menù tutto ispirato al grande compositore nonché raffinatissimo gourmand. Una faraona farcita, il ricordo di un piatto di Rossini che era il tacchino farcito vi racconto un piccolo aneddoto Rossini pianse tre volte. Una volta quando gli criticarono un'opera la seconda volta quando sentì Paganini e la terza quando perse questo tacchino nel lago quindi noi gli proporremo una farona farcita con foie gras, spinaci e una salsa tartufo. Ah io preparo un'insalata. Allora Rossini nel 1816 dopo la prima del barbiere di Siviglia a Roma che non andò proprio così bene, scrisse alla sua cara amica e gli disse guarda mi sono riconsolato con un'insalata, ho fatto quest'insalata per il vesco con il tartufo quindi un'unione che poteva sembrare assolutamente fuori luogo l'insalata con il tartufo per un musicista e per un palato che amava molto il foie gras e cose un pochettino più importanti e per la prima volta fece quest'insalata con sopra il tartufo e al vesco vi acque così tanto che la benedisse e quindi si chiama insalata benedetta. Abbiamo preparato una sua classica ricetta di Rossini appunto che aveva ideato lui che è un consomè di coda di bue ed era diciamo piatto finito lì per lui ma nel 2024 l'idea della sostenibilità ci porta di riutilizzare la coda con la quale veniva preparato il brodo in una forma di un tacos in modo insomma da mangiare sia la parte solida che a di bere un po' di brodo. Quest'anno ad esempio io ho rivisitato il famoso filetto alla Rossini mettendolo tutto dentro a un cappelletto piccolo piccolo quindi tutti gli ingredienti di un filetto vanno dentro a un cappelletto che poi vengono cotti in un brodo e poi vengono coperti completamente con del tartufo nero. E infine gustati? Sì, penso di sì, spero di sì. La parte più divertente? Sì, penso proprio di sì. Abbiamo fatto un crudo di canocchie marinate nella salsa di soia quindi la contaminazione che insomma era la base del pensiero rossiniano e l'abbiamo condita con quegli ingredienti che sono il foie gras un brodo di prosciutto al tartufo nero e poi un po' di gel di yuzu e cose insomma che danno le varie consistenze. Per il ristorante Dalla Gioconda di Gabicce Monte ecco il piatto pensato dal chef Davide Di Fabio e realizzato da un suo stretto collaboratore. Lo chef ha pensato di rivisitare la pizza alla Rossini un grande classico della città di Pesaro che è questa pizza base rossa con uova sode e della maionese che lo chef ha pensato di rivisitare con un pane fritto che viene accompagnato da un'insalatina di uova sode e una maionese al pomodoro. La maionese ha la particolarità di non avere uova quindi viene montata grazie al grasso della pasta di mandorle. Creatività nei piatti e nel menù. Senta, lo ha ricordato lei in apertura questa sarà un'edizione anche dal punto di vista enogastronomico dedicata alla memoria di Gioacchino Rossini una delle sue frasi più celebri è l'appetito è per lo stomaco quel che è l'amore è per il cuore insomma possiamo sposare anche noi questa filosofia? Io lo sposo anche fisicamente questa filosofia quindi essendo ingrassato di 8 kg da quando sto nelle Marche sì, sicuramente Rossini era un grande uomo un grande musicista ma soprattutto un grande amante e conoscitore sia dell'uomo che della cucina. E non c'è Rossini senza il suo barbiere di Siviglia che era presente in carne ed ossa nello stand della bit e ovviamente protagonista è stata Pesaro, capitale della cultura. Ascoltiamo l'ultimo racconto sulla bit della nostra Jessica Balestra e poi arriviamo alla cronaca. Io sono pesarese quindi rossiniano e sono qua in veste chiaramente folcloristica. Non arriva da Siviglia come il più celebre barbiere della storia dell'opera ma dalla stessa città che ha dato i Natali a Gioacchino Rossini. Daniele Camilli, pesarese doc, è arrivato nel padiglione delle Marche per fare barba e capelli proprio accanto allo spazio espositivo dedicato a Pesaro, capitale della cultura 2024. Non è il barbiere di Siviglia ma il barbiere di Pesaro? Sono un barbiere di Pesaro abbastanza famoso, diciamo, abbastanza riconosciuto. E oggi è a lavoro, l'hanno messo a lavoro? Oggi mi fanno fare gli straordinari. Sulla sua poltrona in pelle si è seduta persino la ministra al turismo Daniela Santanchè che tra un saluto e l'altro è rimasta ammaliata dal fascino senza tempo del barbiere pesarese. E se lo scorso 20 gennaio la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno della Capitale Italiana della Cultura la festa, spiega il sindaco Matteo Ricci, è appena cominciata. Ci sono adesso tre date in particolar modo da segnare in agenda una è il 24 febbraio perché inaugureremo in Piazza del Popolo la biosfera della vita sarà il nostro albero della vita che rappresenterà innanzitutto il pianeta da salvare una sfera tecnologica interattiva che produrrà spettacoli e audioluci ogni giorno quindi è davvero un evento da non perdere ma soprattutto è un'opera che poi rimarrà per tutto l'anno. Poi il 29 febbraio perché Rossini tra le varie stravaganze è nato in anno bisestile e quindi celebreremo il compleanno di Rossini con manifestazioni dalla mattina fino alla sera e in particolar modo inaugureremo l'auditorium Scavolini che è un auditorium costruito intorno alle esigenze della musica per circa 2000 persone. Poi il giorno dopo, il primo marzo invece, faremo suonare il rombo dei motori perché Pesaro è anche terra di piloti dei motori e al Teatro Rossini avremo la cerimonia per la cittadinanza onoraria Pecco Bagnaia che è campione del mondo, che ha deciso di vivere a Pesaro da alcuni anni si sposerà nella nostra città e quindi insomma anche i motori saranno un pezzo della storia del nostro territorio che racconteremo. Milano intanto si gode il suo barbiere, abile non solo con le forbici ma anche con il canto. So anche cantare, ho attenzione. Esatto, e allora ci canti qualcosa in omaggio al nostro Rossini? La 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 la, bravo bravissimo, finisco qua. Insomma c'è un po' di tutto alla bit nello stand delle Marche un racconto dell'intera giornata, lo troverete all'interno del nostro rotocalco quotidiano Zoom News con la presentazione anche della legge d'iniziativa regionale Marche Terra di Benessere dell'assessore Antonini e poi ci sarà anche la presentazione dei carnevali storici del Piceno a cura del BIM Tronto. Tutto questo all'interno di Zoom. Ora arriviamo alla cronaca perché questa mattina il giallo di San Ginesio ha destato, attenzione, in tutto il territorio marchigiano. Un cadavere è stato trovato a bordo strada con delle ferite. Lo ha trovato una donna che stava facendo jogging nelle campagne di San Ginesio precisamente lungo la provinciale 31 in località Casagatti. Sono arrivati sanitari, carabinieri, indagini a 360 gradi. Si è parlato di omicidio, il rimedimento è stato effettuato intorno alle 8.30 e alla fine si è compreso che probabilmente sia in presenza di un gesto volontario nel senso che il 39enne si sarebbe arrampicato su un palo della luce per toccare volontariamente i cavi. Sarebbe rimasto folgorato da qui le chimosi che sarebbero state riscontrate sul corpo dal medico legale, ma nessuna aggressione violenta. Dunque un gesto volontario con l'uomo che è rimasto folgorato ed è deceduto. Chiarito anche il giallo sulla morte di Rodolfo Ignazi, l'anziano trovato inginottiato vicino al letto a Monte San Giusto, una scia di sangue lungo la scala nella sua abitazione. Il santo settantotenne è morto in un incidente domestico, probabilmente una caduta lungo la scala di casa, caduta nel corso della quale ha battuto la testa. Le indagini dei carabinieri che hanno ricostruito la dinamica e le circostanze del decesso e l'autopsia disposta dalla procura di Macerata, eseguita ieri dal medico legale Antonio Tombolini, hanno permesso di far chiarezza sulle cause della morte o nemorragia alla testa. Il decesso dovrebbe risalire a giovedì sera. Poco prima Ignazi era stato visto da un vicino, successivamente non aveva risposto alle telefonate di un'amica, che venerdì era andata a cercarlo e lo aveva trovato morto. Domattina inizierà l'udienza davanti al GUP per l'omicidio di Pierpaolo Panzieri. Siamo a Pesaro, avvenuto quasi un anno fa in pieno centro, accusato del delitto con premeditazione. Il trentenne, Michael Alessandrini, la difesa punta a ridurre le aggravanti prima del processo, ma sentiamo Thomas Delbianco. È fissata per lunedì 5 febbraio l'udienza davanti al GUP del Tribunale di Pesaro per l'omicidio di Pierpaolo Panzieri, avvenuto la sera del 20 febbraio scorso in casa, con 17 coltellate nel centro storico di Pesaro, in via Gavelli. La procura della Repubblica di Pesaro ha chiesto il rinviaggiudistio per Michael Alessandrini. Il trentenne pesarese reo confesso dell'omicidio. Alessandrini è accusato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Non è ancora stato deciso se Alessandrini, rinchiuso nel carcere di Villa Fastigi, sarà o meno presente all'udienza, che poi verrà aggiornata nelle sedute del 12 e 13 febbraio. Gli avvocati Salvatore Asole e Carlo Taormina, legali di Alessandrini, si dicono pronti a dare battaglia su tutti i fronti in merito alla tipologia delle aggravanti. Per la difesa Alessandrini non aveva premeditato l'omicidio, mentre per la procura nell'omicidio c'è stata la premeditazione. Il pool di periti incaricati dal tribunale aveva decretato la semi-infermità mentale di Michael, una relazione che si concludeva con la necessità per il trentenne di un piano integrato che contenesse una componente psicofarmacologica, psicoterapeutica e di reinserimento sociale. Un programma che per i suoi legali non sarebbe stato compatibile con il regime di detenzione in carcere. Ma il giudice di sorveglianza aveva respinto l'istanza per il ricovero in una REMS o gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel primo interrogatorio in Italia era emerso che nel mirino di Alessandrini c'erano altre due persone, persone che secondo il trentenne pesarese sarebbero state meritevoli di morire. La voce divina che parlava ad Alessandrini li vedeva come peccatori e gli chiedeva di eliminare per il bene dell'umanità. Non c'era riuscito perché poi, dopo l'omicidio di Panzieri, Michael era scappato in Romania in una fuga durata 30 ore. Secondo quanto riferito da Michael al giudice, Pierpaolo e un altro gruppo di ragazzi avrebbero ottenuto un atteggiamento verso una ragazza di nome Giulia inaccettabile per Alessandrini, il quale la riteneva indifesa e fragile e avrebbe agito come giustiziere. Aspetto già emerso nell'interrogatorio reso a Timi Zoara, una sorta di delirio mistico che ha armato la mano di Alessandrini. Seguiremo l'omicidio Panzieri e il suo evolversi, dunque l'udienza di domattina sia nel corso di Vera Mattina, la trasmissione che ogni giorno è in programma per Vera TV dalle 9 alle 11 e ovviamente nell'edizione delle 13 del nostro telegiornale. Voltiamo pagina. D'aspo di un anno nei confronti di un rappresentante della dirigenza della squadra di calcio Olimpia Ostra Vetere, ritenuto responsabile di condotta pericolosa per l'ordine pubblico e la sicurezza. Lo ha disposto il questore di Ancona, Cesare Capocasa, dopo che il 20 gennaio il dirigente allo stadio Poerini di Ostra Vetere in occasione dell'incontro di calcio con la Trecastelli Polisportiva, valevole per il campionato di seconda categoria, aveva tenuto una condotta grave e violenta nei riguardi di alcuni giocatori e anche di alcuni tesserati dell'altra società. La Regione Marche approva il piano trennale per le politiche del lavoro mettendo a disposizione una cifra molto alta, 350 milioni di euro. Serviranno per reinserire e inserire nel mondo del lavoro i disoccupati marchigiani, eppure gli stessi marchigiani guardano con diffidenza al mercato del lavoro e si dicono ormai esasperati e sconsolati. Sentiamo. Il problema del lavoro è una di quelle tematiche che da sempre crea grande disappunto tra la gente. Nonostante il Consiglio regionale abbia appena approvato il piano triennale per le politiche attive del lavoro, i marchigiani appaiono sfiduciati. Poco lavoro e soprattutto poche offerte, non c'è la richiesta, domanda e lavoro. Insomma un pensiero negativo in prospettiva. Sì, assolutamente. E poi chiudono molti negozi, negozi storici, ed è molto triste in un momento come questo. Io speriamo che me la cavo. In che senso? In generale. Non sei ottimista insomma? No, non sono ottimista comunque. Ci dovrebbe essere più attenzione sia per chi dà da lavorare, sia per chi lavora. Questo invece purtroppo è una cosa che viene sempre di più a mancare, purtroppo. Non c'hanno un avvenire i giovani. Lei è sfiduciata? Sì, molto, perché lavorano con le ore così da tre, quattro ore, poi magari lavorano quattro, cinque giorni alla settimana neanche. I contributi che glieli mette a questi ragazzi. E il lavoro è quel tipo di sofferenza che deve essere utile a sviluppare talento, e quindi credo che sia un'attività che può essere divertente, perché se è noioso è meglio cambiare il lavoro. E quando il lavoro non c'è? Quando il lavoro non c'è vuol dire che non ti va di fatica, è meglio che vai al mare. Per garantire la crescita dell'occupazione e delle competenze professionali, con il nuovo piano la Regione mette a disposizione una cifra elevatissima, 350 milioni di euro, risorse su cui mai in passato le marche hanno potuto contare. Credo che sia importante anche il fatto delle risorse, 350 milioni, che non è mai successo, è la prima volta che abbiamo questa importante cifra, e quindi ecco, questa responsabilità di utilizzarla al meglio. La sicurezza nel mondo del lavoro, quindi, e la disabilità. Aiutare, stare vicino al problema dei disabili, naturalmente è un fatto importante, giusto e dignitoso. L'atto di programmazione pluriennale sulla formazione di lavoro arriva dopo circa 15 anni, in quanto l'ultimo piano risale alla triennio 2007-2009. La strategia del piano si incentra su alcuni obiettivi prioritari, la promozione della cultura, del lavoro di qualità, il potenziamento della governance pubblico-privata nella gestione delle politiche e della formazione, il miglioramento dell'inserimento e reinserimento dei disoccupati, l'accrescimento delle competenze. E ora parliamo di sanità. La Murg di San Benedetto è in emergenza, sitin organizzato dal centro-sinistra all'ingresso del Madonna del Soccorso per denunciare il taglio di fondi. Si parla di 26 milioni per la sanità del sud delle Marche. La situazione dell'ospedale di San Benedetto è peggiorata. Lo grida in coro al centro-sinistra cittadino, che sembra essersi ricompattato, organizzando un nuovo picchetto all'ingresso del Madonna del Soccorso. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il trasferimento della medicina d'urgenza e la riduzione temporanea, dice l'aste, di posti letto. Il gruppo di manifestanti, con tanti volti noti della politica cittadina, dai consiglieri di minoranza Paolo Canducci ad Aurora Bottiglieri, dall'ex sindaco Paolo Perazzoli alla moglie, ex assessore Loredana Emili, era capeggiato dagli onorevoli Giorgio Fede e Augusto Curti, rispettivamente del Movimento 5 Stelle e del PD. A distanza oramai di tre anni dalla gestione nuova dell'ospedale della sanità marchigiana col governo di centro-destra, la sanità è ancora peggiorata. La promessa che è stata fatta alla base della campagna elettorale era di risolvere i problemi che sicuramente hanno radici vecchie, ma è un dato di fatto che oggi siamo ancora messi molto peggio di prima. Lo vedono tutti i pazienti che passano del fondo soccorso per i reparti che cercano una diagnosi e devono andare a girare. Poco fa parlavo con la signora che è uscita e mi raccontava di come per assistere il padre deve fare la gira del giro delle tre chiese fra presidi, sanitari, pubblici e privati, il personale che è in sofferenza, gente che scappa da un ospedale che una volta era il ferrocchiello di questo territorio. Non è giusto e bisogna protestare, ma non protestare, indurre a quelle proposte che non sono arrivate, a partire dal staglio dei fondi. Ma non vengono tirati in ballo solo la regione e il governo. Il dito è puntato anche sulla totale assenza della politica sanvenedettese, reduce tra l'altro da un incontro con la dirigente dell'Ast Natalini questo venerdì. Dello stesso avviso anche il deputato Dem Curti. Perché vediamo una sanità della Madonna del Soccorso e di generare anche nel Piceno non adeguata alle esigenze dei nostri cittadini. Questa è una sanità gestita da un centrodestra che ricordiamo tutti nella campagna elettorale e regionale è venuto qui sul territorio facendo delle promesse e oggi possiamo dire che hanno promesso di fatto hanno promesso delle frottole ai nostri cittadini e purtroppo i nodi stanno venendo al pettine. L'ultimo diciamo tassello negativo diciamo per la sanità del Piceno l'abbiamo visto proprio in questi giorni anche a mezzo stampa che è il taglio di risorse importanti. Noi parliamo di un taglio di 26 milioni di euro per la sanità del Piceno. Lo stesso Curti rincara la dose sulle promesse non mantenute in campagna elettorale. Ti do due cose all'aggiunta regionale e ai rappresentanti locali del centrodestra che avevano raccontato tutte quelle belle favole in campagna elettorale. Ci devono dire prima di tutto cosa andranno a tagliare con quei 26 milioni di euro. Taglieranno dove? Sull'assistenza domiciliare taglieranno sui servizi all'interno dei due ospedali taglieranno sui servizi e sui beni diciamo necessari appunto per la sanità territoriale e la seconda domanda che comunque ci devono spiegare per quale motivo è un taglio così importante un taglio che per noi è di 6 milioni di euro ma se noi andiamo su scala regionale è un taglio molto più importante. Presenti anche Giorgio Mancini e Sabrina Gregori che qualche giorno fa erano stati allontanati dalle forze dell'ordine per aver consegnato dei volantini davanti all'ospedale. Questa domenica previsto un nuovo presidio in centro in Viale Moretti a Porto d'Ascoli Poco più di un anno fa i lavori di corso e Trento Trieste ad Ascoli oggi volgono però al termine per Carnevale la strada verrà riaperta completamente sebbene in un primo momento solo per i pedoni abbiamo fatto il punto con il sindaco Marco Fioravanti e abbiamo realizzato delle esclusive immagini con il nostro done che ci mostra l'andamento del cantiere L'ultima pietra della nuova pavimentazione di Corso Trento e Trieste è stata posta e nei prossimi giorni si procederà a riaprire la strada che in un primo momento rimarrà solo pedonale a distanza di poco più di un anno dall'inizio del cantiere quella che l'amministrazione comunale ha da sempre considerato un'opera necessaria e strategica è ormai alle battute finali restano da realizzare i marciapiedi su entrambi i lati nell'ultimo tratto di strada tra via Cino del Luca e via 20 Settembre e il montaggio della nuova illuminazione per essere definitivamente completata ma intanto anche in vista del prossimo carnevale i cittadini potranno tornare a fruire della strada che è stata completamente riqualificata siamo in addirittura arriva un cantiere molto impegnativo e molto complicato anche nella gestione uno perché è la via più importante di Ascoli e comunque la via che divide la città è l'arteria principale del centro storico e due perché abbiamo fatto tutti i sottoservizi nuovi con un sistema innovativo con una galleria dove passa dentro la fibra l'acqua il metano e quindi abbiamo anche la possibilità di intervenire non rompendo la strada lavorando sotto e poi abbiamo digitalizzato tutta questa via quindi da remoto riusciamo a monitorare costantemente sotto la strada poi abbiamo fatto il massetto e poi abbiamo iniziato la pavimentazione con una pietra molto importante questa è una pietra lavica siciliana spessa 12 cm perché abbiamo voluto investire perché una volta che si mette mano qui in via Trieste secondo me deve durare il più possibile un'opera attesa da 40 anni che però per la sua complessità è inevitabilmente creato dei disagi per i cittadini e per gli esercenti della zona ci ha avuto molto coraggio perché è un cantiere come dicevo prima molto impegnativo perché ovviamente coinvolge anche tutte le attività tutti i residenti tutti coloro che vengono in centro come turisti come avventori e quindi abbiamo dovuto mediare con le attività con le imprese che hanno lavorato qui per cercare di creare meno disagio ovviamente quando fai un lavoro così grosso il disagio lo crei però siamo andati avanti non ci siamo fatti fermare dalla paura perché una volta messi le mani qui in via Trieste secondo me uno aumenta l'attrattività di questa città e due questa diventa una via molto accogliente per i turisti non sono mancati neppure momenti di preoccupazione ma alla fine quello che era uno dei punti fondamentali del programma di mandato del sindaco è stato realizzato diciamo che non ci sono stati momenti tranquilli quindi i momenti critici sono stati ogni giorno ogni giorno è stato un momento critico perché comunque c'erano molte difficoltà per la gestione dei sottoservizi poi ovviamente lavorando qui le rotture della fibra dell'acqua comunque costantemente quindi le preoccupazioni quotidiane e devo dire ancora non sono tranquillo però ci avviciniamo alla fine di questo cantiere e allora eccoci qua proprio il sindaco Marco Fioravanti parlava nel servizio andato in onda poc'anzi del carnevale e chiedo alla nostra regia se è possibile mandare in onda questa immagine che racconta un po' di quello che sarà il nostro impegno in occasione del carnevale di Ascoli Piceno perché anche quest'anno Vera TV sarà in diretta in due giornate fondamentali quella dell'11 quindi domenica prossima 11 febbraio a partire dalle 16 per raccontarvi tutte le scenette le macchiette eccola qui il nostro volantino del carnevale di Ascoli e poi sarà in onda anche in diretta il 13 di febbraio sempre dalle 16 alle 20 ovviamente ricordatevi il nostro canale canale 11 Vera TV vi ricordo anche un altro appuntamento quello quotidiano con Vera Mattina dalle 9 alle 11 l'informazione delle marche viene approfondita con una serie di collegamenti inerenti alle notizie del giorno domattina sarà il turno della nostra Stefania Serino che si collegherà anche con Milano con Jessica Balestra per avere le ultime afferenti alla vita a quello che sta succedendo alla borsa del turismo ma anche per parlarci dei principali casi di cronaca abbiamo sentito appunto in apertura del nostro telegiornale dell'omicidio Panzieri perché domani sarà in aula l'assassino presunto tale Michael Alessandrini e ovviamente il Caffè Con l'appuntamento con l'approfondimento politico domani alle 8.30 da Sarai Studio sempre con la nostra Stefania Serino Maurizio Mangialardi ecco questo è il punto sul nostro palinsesto la prima parte del nostro notiziario si ferma qui ma fra qualche secondo ci ritroveremo insieme con il Tg Sport arrivederci grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori